eccoci siamo in pesca di brutto l'abbiamo preso il luccio guardatelo apertura col botto eccolo qua un bel verdelone perdone maschione lo facciamo lo tiri sua mano o lo guadiniamo ci lava dai guadiniamo come i mongoloidi guadiniamo sto coso che vergogna il guadino vergognoso e noi e noi lo sapevamo che ci cascava dentro è dalla coda perché sennò è attaccato un po per il cano non scappa più questo qua scappa più tiri il guadino in mano adesso si è arrotolato dentro micchia guardate l'attrezzatura e noi abbiamo preso il luccio a galla a galla ha fatto anche un disastro non so che cazzo ho combinato io qua per ora vi salutiamo poi passiamo alle foto che vai